Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite, quest'oggi raga vi mostriamo, che poi quest'oggi è sempre oggi ma sono abituato a dirlo Il rush continua E vi mostriamo qualcosa di stratosferico Nuovo cavo, nuove armi mitiche, nuovo boss, nuove guardie da fightare totalmente diverse da quelle a cui siamo abituati perché sono dei robot Raga, si vola, fine Si vola, si vola Si vola Perché c'è il nuovo cavo, ci sono dei nuovi scagnotti che sono dei robot, nuove armi mitiche, raga, pompa mitico che si è sempre detto e davvero lo hanno messo È un lancia impulso Lancia impulso Adesso vedrete Lancia impulso Raga, è chiuso di sotto in tutto ciò Sì, 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 pronti a fightare Magari io bunker o mai non li guardano neanche più, tanto sono sempre per trollare Ahia, quello prende un'arma in high ground Sono attenti raga, c'è tantissimo gente Due chilati Ah, c'è uno qui Aiuto Ok, scappo Io non sono messo bene di vita ma dove sono morti Ok Fatto uno Ok, qua c'è ancora gente Io sto cercando un attimino di equipaggiarmi Laser assurro GG, staff Faccio i scildini Allora Mordo un altro, dovrebbe essere finto un team Ok Ma sono giusto un'arma Grande, staff Grande Dove c'è uno, ma 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 fere Un bato di gente raga E ci sono Che ho cercato di scappare da sto boss, maledetto Nooo Non ho colpi Step vini qua verso Marci Ho ucciso Kitty Ma c'è uno, 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 ma c'è uno con uno di vita Io non ho colpi E qui e qui e qui Marci Qui l'ho visto, l'ho visto, andare oltre queste, questi, cosa sono, questi muri Ragazzi, non so più parlare E' pieno di gente Arriva altra gente Sonoati via, sonoati via Ok, lì, ho visto C'è il coso di colpi sotto, Steph Sì Questo è quello che mi serviva Ragazzi, io, io adesso Mannaggia Servia bene che la carta di Mark Prendi la carta Sì, prendo tutto Scusate, raga, c'è un botto di gente Non capisco dove sono Sono nascosti nei cassonetti, Steph Ok, occhio Mi sento proprio che sono nascosti nei cassonetti Ricarico tutto Venire la mia card Marci Se ce la faccio, ce la faccio Secondo me No, non c'è nessuno qua dentro L'ha zerato uno Bravissimo Dietro la roccia Vabbè Una è qua Si stanno restando tutti a vicenda Un altro è andato Finisci Manca quello dietro la roccia, Steph Porca miseria Se si è camperato, eh Perché ha il cechino Eh, lo so Scappavo Uh, P90 P90, bello Ha più colpi? Sì Io non ho vita Non ho vita Resistete, ragazzi Mi sto tirando il medico Steph Mamma mia Ma poi si muovono Si muovono bene i boss Raga Mamma mia Raga mi si è rincastrato la mano E stavo mischiando i colpi Sì, si muovono bene Raga Sta prendendo fuoco E cosa sono i cavoli Te l'ho detto, Steph Io te lo spiegavo in altri momenti In pratica adesso Ci sono delle scatole di cibo E tu trovi tutto questo cibo particolare Ho trovato delle pannocchie Ho trovato di tutto Ok E ti danno dei benefici diversi Ho scelto vita Capito Il boss Lì c'è il coso Guarda, tieni questo No, bello quello Porca miseria, raga Quanta roba bella Sì, però ragazzi Magari restateci Magari restateci Magari restateci Vado, vado, vado Perché così riusciamo a prenderci qualcosa Sono arrivata la gente Tutto, non so cosa dirvi Forza Nuovo Capo Prima volta No Comunque il boss Che è il gattino sul robot E il top Bellissimo Che pensavamo tutti fosse una moto Che mettevano Ma su un vicolo Non è no E sì, l'abbiamo detto No, è già Che quindi non è una moto Però bellissima Eccomi Allora mi deve equipaggiare Alla venite da me Arrivo, sono qua Sparo No, ragazzi È arrivata gente No, no Sono scagnotti Per i vedi qua Vedi qua Vedi da me Tutti qui Tutti qui Tutti qui Sto provando Dammi un secondo Devo anche equipaggiarmi Mi hanno rimesso il splash Pronti? Vai Festa Festa Bello Mi hai fatto finire qui Solo per questo Ma perché me state andando? Io sono full Io sono full E manca solo marche Però Sto cercando un po' di equip Sicuramente mi interessa Allora Aspettate che prenda anche sta roba Quindi Chiariamoci Fucile a pompa Mitico 102 danni Carenze di tiro Vabbè Bla 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 Bibi E questo come l'altro pompa Cioè O faccio così O Faccio Così È veramente clamoroso Raga Il Lancia Dispositivo di lancio Di onde d'urto Di kit Non fa danni E mi fa l'impulso Cioè A me ha fatto danno Prima però No no Io me la tiro addosso Non mi fa danno Ed è di quelle che ti danno Un full damage Ok Ah Full damage Ok Non fall damage Uh c'è questo qua No è morto 717 di cosa Raga Ok la zona Dobbiamo correre tantissimo Sì Arrivo Io non ho armi Alla fine ma va bene Ma avete col bianco Scusate Io ne ho 10 Quindi No Purtroppo Eh sono già andato Sì ne ho 29 Ho notato Ragazzi abbiamo un nuovo oggetto Con questo È più veloce del rampino Finché non finisci Colpi Ok Ma scusa con cosa si alimenta Eh Con i missili Ah Ok Io ragazzi ho preso anche una canna da pesca Vorrei provare a cavalcare uno squalo Un squalo Ci sta Ci sta bella idea Che poi c'è anche da dire Che dei veicoli invece non c'è l'ombra ragazzi Cosa da specificare Non ci sono Ok Perf sta tryhardando da solo Player Non so se avete notato raga Ma i colpi del pompa Quello che si ricarica Quello che ha la potenza più forte Ha solo tre Colpi nel caricatore Ok Ok Aiuto Qualcuno mi sta arrasciando Sì Steph Se tu vai da solo Che pretendi Torna un po' indietro Ma guardate dov'è Lontanissima Che fatti Va bene raga Stavo testando le armi mitiche Scusa Steph Ho capito però Scusaci eh Allora Cerchiamo di raggiungerlo E' già fatte Maledetti schifosi Dove stanno Steph? E' di fronte a me 330 Dove ci sono tutte le build Sono almeno 3 Quindi occhio Eh raga Dovremmo poter andare Dai Avanzo Ok Bene Butta una granata Noi riprendiamo la jump Seguitemi perché ci riprendiamo la jump Che avevo usato io per scappare Non lì Marci me l'ha pingato Rira Ma siete due da me No raga Cioè questa qua Era la mossa della demenza Raga Vi calmate Un attimo Avete rotto il trampolino Avete tirato Tre granate Su un trampolino Dove non c'era nessuno Io mi ho pingato No Marci Tu sei proprio una pigna Fattelo dire Fattelo dire Raga prendete il fiume Guarda Io mi dissocio da tutti Mi esprimo Era la direzione Ma no Marci Non dire che ho la direzione Io non commento neanche oggi Eh sì All'interno C'erano le cose Fattelo di stampa Guarda Sta zitto che amendo Allora C'è gente che vola Non so come Hanno aperto Il Che succede? Non lo so Uno è caduto qua da me Non capisco come sia possibile Ho visto gente che usava Nel da plano Sto prendendo un sacco di danno Dalla zona Accidenti E quelli sparano Provano a cechinarci Occhio Eh lo so Li vedo Io infatti già sto prendendo Un botto di danno Li devo ignorare Mannaggia La safe Se mi fermo Sono morta Pensa a te Adesso mi mangerà pure Uno squalo Me lo sento Ah Raga Dobbiamo continuare a correre La safe è di nuovo Lontanissima Mannaggia Sto sprando un sacco Ci sono minuti indietro Ci sono Eh ore dura Siamo in acquetta Così a nuotare Ci sono anche gli squali Raga Oh no Raga andiamo su delle funive Venite verso destra Arrivo Non possiamo stare in acqua Mi stanno provando a sciottare Eh pure a me Pure a me Certo C'è un sacco di gente in sta zona raga Pieno zeppo Siamo tutti qua Raga anche lì Anche lì Il nuovo punto dove si formano tutti eh Vero Esatto Guardate se avete missili Che almeno io così avrò degli escape nel caso No No zero Fammi vedere No Avete mazze raga nel caso Hanno provato i darmi Non so neanche da dove Io ho dieci di legna Non ho altro Raga non so da dove ci sparano Ve lo giuro Vai dietro Steph c'è gente Anche dove ti ho pingato io Probabile che siano quelli Passiamo sotto Steph Così 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 Guarda Ah Qua un altro team che fight Ha con un altro team Top Eh quello che ti pingavo Però io ho bisogno di tutto Materiali colpi Mannaggia Perché io ti devo spararci Steph c'è un player eh Stava arrivando verso di noi No raga c'è gente ovunque Avete colpi a R raga In più Ne ha sessanta Minimo Ma Quanti ne hai 20 Tieni Oh Hanno provato Hanno provato a cecchinarmi Raga da qua non ne usciamo vivi Facciamo il più possibile Non equipaggiati in questo modo Player per occhio Ho fatto il bravo Se tanto bravo O anche quello raga è pieno Aspettate Non so che fare Ok gli ho fatto 14 Però se faccio un buon movimento Mi venite in quattro Io non c'ho niente Non c'ho colpi Non c'ho materiali Che era uno di granate Mi lasciano Che non ho niente Ucciso uno Credo uccisi due Buono Raga no Siamo lontanissimi Io muoio ragazzi Eh Fede dove sei? No muoio muoio Ragazzi non lo mettete qui Mannaggia Vai Steffo Non riesco comunque Penso che sei morto Non riesce Non riuscita a farti il mail Il mail Ci sto provando Ma penso di no Io non ne ho Vieni Steffo qua Ok Ok io l'ho tirato Non avete i missili? No 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 Sono troppo lontani Steffo qua Vai Allora mi tiro il medikit E jumpo Sì Vai Steff Non penso di arrivare in zona È veramente lontanissima Posso puntare alle funivie magari Eh perché abbiamo perso tanto tempo Nella prima zona Con tutti i player E ora ovviamente Siamo lontanissimi Ma Falò non ce ne sono in giro Vero? Eh porca miseria Dico io Raga player di fronte a noi Lì Che nuota Quindi occhio che magari Si gira e spara Marco se andiamo veloci Così usci andiamo a safe Porca miseria No Queste bende sono Buone come il pane Fammi trovare altro Niente va bene Ok Aiuto 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 Ok Io sto recuperando la safe Fraga assurdo Io non so Avete bene per me raga No Non ho niente ragazzi Non occorre niente per me Al momento un medikit Spero di trovarne un altro Ma non riesco a tirartelo lì Io non arrivo in zona ragazzi Cioè ci arriva Marci Ma non ce la faccio Morto Vabbè Disastrosa Prendi questi così qua Se riesci Marco Ce la fai? Sto qua No C'era la jump qua Prendetemi Marci viene a prendermi Eh Meglio io poi Te lo dico Raga sono Sono alla zona Sono morta di fronte alla zona Marci sopravvivi? Con pochissima vita Riesca a uscire però eh Raga devo restare uno alla volta Mamma mia il medico è arrivato 20 player vivi raga Aiuto il salvatore Marci stai restando Feri che aveva molto vivito di me Eh Marco eravate uno vicino all'altro Non so cosa fare Deve essere veloce dai Faccio io Feri faccio io Ok Ma no ma c'è acqua coi mezzo Non ci capisco nulla Raga di fronte a noi c'è una torre di player Quindi è cambiata tutta la rotation Di come le persone si muovono Sì ma è normale Marco Con cambio mappa è normale Hai detto come sei su shield? Niente non ho nulla ragazzi No ma intendi Shield generale Si è messa bene Sì Shield si La vita La vita Che una jump qua E non è male Io la prenderei Guardate la nuova zona raga Sì raga Prendiamo subito allora Sì andiamo 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 Vai Che scatto che mi ha fatto Mamma mia raga Quei nei ground Quei nei ground Altrimenti siamo morti Io penso di essere morto è uguale Ovunque c'è gente raga Beh no ma siete calmi voi Mamma mia Ghost hit Che fortuna che ho avuto Io ci sono qua Marco Dove sei? Ci penso io Ci penso io Vai Ok Mi sto pensando stef Mi sto pensando stef Ok che c'è anche uno dietro Quindi almeno cerco di restarvi Centro funi via C'è uno là sotto che è bianchissimo Da dove spare? Non ci capisco più nulla Il da quanto è bianco è senza vita Accidenti o Vai stef Io non ho neanche più matto Raga io ho 30 di vita Stefo ti lascia i miei metalli Prendili Ah no che siete già andati voi Lo stiamo facendo per davvero stef? È una follia lo so Ragazzi no Sono andata tutta altra parte io Non posso più Ti ho coperto un attimo stef? Sì sta morta Addio ragazzi Raga dovevate venire qua che c'era solo un player Era la zona migliore Niente addio 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 Eh vabbè Raga questo è pure il giag infinito O quello che è il novo item del giag Va bene va bene va bene ragazzi Non possiamo vincere tutti i match che giochiamo oggi Esatto 9 chi comunque 13 chi l'abbiamo fatto Sì io ne ho 7 Vendetta Vendetta Vabbè poi ne avevo più niente Mi è piaciuto Probabilmente muore anche questo Raga Wow Le armi nuove mitiche interessanti A me il pompa non mi sembra forte Ma devo provarlo tante volte Quindi Esatto Non voglio dirvi una cosa che poi magari non è realmente così L'altra arma interessante Con i missili Comunque lo stai pagando tanto Però veramente interessante Quindi Belle queste due nuove armi mitiche Interessante la mappa Dobbiamo imparare a muoverci Capire come giocarla C'è tanto da capire Però È comunque una figata Noi ci fermiamo così per questo video Sotto questo è un bel video Iscrivetevi al canale Campellino E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao